Giunta la sedicesima edizione, la Sagra dei Maccheroni della Trebbiatura torna a colorare la frazione più vivace di Penne, Rocca Finadamo. Come ogni anno, durante i quattro giorni di festa, verranno ripercorse le antiche tradizioni contadine e gli antichi mestieri artigiani. Un ricco programma che si aprirà giovedì pomeriggio con il taglio del nastro da parte del sindaco di Penne, seguito dall'esibizione del famoso gruppo La Tribù di Farindola. La festa proseguirà anche fino a domenica notte, momento in cui ci saranno i saluti ufficiali delle autorità e la rivederci all'anno prossimo. Il menù è abbastanza ricco, si parte con la classica gara dello stuccone, tutte le giornate sono sempre impegnate da questo punto di vista con degli artigiani che lavorano, sabato con la aratura, come si faceva una volta, con i buoi addirittura, e domenica il clou con il raduno dei trattori d'epoca e la classica trebbiatura del grano, come si faceva una volta il tutto, accompagnato con degli ottimi piatti della trebbiatura, appunto, che sono i classici bucatini con il sugo di papera e la papera arrosto. Saranno sempre vari gruppi che si esibiranno, a partire da venerdì sera con il gruppo degli scordati di Farindola, sabato sera con l'esibizione del dubbotto a cura del maestro Pierluigi delle Vedove.